Visto che poi io me ricerco anche una lampadina questa qui da macchina da cucire con questo particolare attacco qua. Ora queste sono diventate rarissime, appunto perché io non sto mai zitto mi sono proposto di fare una modifica di questa mettendoci il led, praticamente con queste qui. L'idea è quella di togliere il vetro, di infilare questo qui dentro, così che potrà utilizzare questo zoccolo. È un'idea folle, ci proviamo? Adesso devo rompere il vetro a posto. E adesso devo pulire lo zoppolo dentro dai residui del bulbo. Ma che mi sono andato a cercare di farlo qua. Si vede? Questo caos primordiale. E' una cosa forse che mi avrebbe fatto un po' di scalpelare. Forse lo scalpelare. forse ce la facciamo. Un litro. Bisogna fare attenzione che questo ottone si acciacca. è la mirina. Speaker 2 Grazie a tutti. Appettuare attenzione che dietro al Canvas. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.